Causa grave e rilevante carenza del personale medico, il reparto di cardiologia dell'ospedale Grevina di Caltagirone rischia di chiudere i battenti, o meglio di andare incontro a una drastica riduzione delle prestazioni e dei servizi sanitari, il tutto a danno dell'utenza. La notizia indiscrezione lanciata sui social era già nell'aria e trova adesso conferma nelle parole del vicepresidente della Commissione Sanità all'Ars di Palermo, Francesco Cappello, il cui parlamentare ha chiesto l'intervento del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, giacché ha assunto a sé le deleghe dell'assessorato alla salute. Vogliamo sapere dal presidente Musumeci, neoassessore alla sanità, che cosa ne sarà dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale Gravina Santo Pietro di Caltagirone. Sono in servizio soltanto 9 cardiologi su 24. Questi 9 cardiologi da soli devono occuparsi delle guardie attive all'UTIC, delle attività di urgenza e di tutto ciò che comporta il servizio ambulatoriale, anche se questo sostanzialmente è stato ridotto all'essenziale a causa della carenza di personale. La proposta del parlamentare, che per alcuni versi potrebbe considerarsi impopolare, è quella di attingere le figure professionali mancanti dagli ospedali Santa Marta di Acireale e San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarde. Cosa accadrà dopo il 5 maggio, data che vede la scadenza dell'avviso pubblico da parte dell'ASP per reclutamento di altri 4 cardiologi a tempo determinato per 38 ore settimanali. Noi una soluzione al Presidente Musumeci la vogliamo offrire, mutuando esattamente ciò che si è fatto con l'unità operativa complessa di ortopedia. In questo momento abbiamo 10 cardiologi presso l'ospedale di Acireale e 2 presso l'ospedale di Giarre. Chiediamo al Presidente Musumeci che questi 12 cardiologi vengano assegnati all'ospedale di Caltagirone. L'ultimo aspetto della problematica è semmai rappresentato dal fatto che il reparto di cardiologia del Gravina si pone al servizio di un vasto comprensorio, senza considerare poi che l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela non dispone del servizio di emodinamica e che lo stesso si pone al servizio anche della popolazione di Niscemi. L'emodinamica di Caltagirone è l'ultima della provincia di Catania sotto il profilo geografico perché l'ospedale di Caltagirone si trova a 70 km da Catania e la prima verso la provincia di Caltanissetta perché l'emodinamica serve anche l'ospedale di Gela e di Niscemi e dobbiamo assolutamente fare qualche cosa per scongiurare la chiusura della cardiologia di Caltagirone.